ciao ciao a tutti e benvenuti sul mio canale youtube se volete seguirmi in questo nuovo video vi invito a farlo così vedremo tutti i passaggi per fare questo pane allora ho fatto la solita procedura ho messo in autolisi le farine con una buona parte di acqua quasi tutta l'ho messa ne ho lasciata solo una piccola parte e comunque fino a che la farina assorbe acqua e la mettiamo quando non c'è più farina asciutta continuiamo a mettere acqua ho lasciato mezz'ora anche un pochino di più poi ho aggiunto il lievito a pezzettini faccio girare in planetaria aggiungendo piano piano l'acqua rimasta ok scusate i guanti perché ho appena fatto le unghie ho messo questi un pochino i guanti per non rovinare le unghie di solito non uso quanti quando faccio il pane mi piace proprio sentire impastare proprio sentire l'impasto con le mani allora continuo vedete metto ancora acqua la metto piano piano l'acqua che è rimasta e faccio incordare un pochino non tantissimo non serve presto a poco dieci minuti poi butto l'impasto sul piano di lavoro e faccio così qualche piega pirlo ok ecco qua e adesso lo faccio riposare 30 minuti farina ne metto pochissima copro e aspetto i 30 minuti passato passato il tempo ci faccio un giro di pieghe ho preparato già l'anice come vedete ma quello va messo dopo alla seconda lievitazione quindi qui ci faccio un giro di pieghe e poi lo metto dentro una ciotola come abbiamo sempre fatto una ciotola oliata e andrà quindi a lievitare quattro cinque ore questo è un pane che ho fatto in giornata quindi ho iniziato la mattina poi la sera ho cotto il pane qui ci metto un po di olio lo metto dentro quindi l'anice non va nel primo impasto ma nel secondo perché faremo una laminazione dove poi metteremo l'anice ecco qua questo è l'impasto dopo la prima lievitazione ora lo giro sempre sul piano di lavoro eccolo qua scusatemi adesso ho tolto i guanti perché è difficile lavorare con i guanti eh perdonatemi lo smalto ma non è uno smalto con gel e quindi non rilascia niente allora lo allargo per benino per fare questa laminazione faccio un po di spazio perché qui non ho molto spazio cerco di allargarlo bene visto ho messo la mano sotto per allargare per renderlo abbastanza sottile ok questa laminazione si serve più che mai per inserire quando si devono inserire degli ingredienti oppure per particolari tipi di pane ok l'anice metto l'anice perché si avvicina alla pasqua e questo pane è molto adatto per abbinare insieme alla corallina diciamo un salame si è molto buono quindi bene io non ne ho messi tantissimi come vedete ma se volete abbondate voi abbondate se vi piacciono abbondate ne ho messi non molti perché poi in famiglia c'è un nipote che non ama i semi infatti lui preferisce il pane semplice me lo dice sempre spero che questa volta non ci faccia caso ai semini lo piego così come avete visto ho fatto delle pieghe qui come continuo tipo con le pieghe a tre in questo modo arrotondo un pochino e lo lascio lo lascio minimo 30 minuti poi anche se lo tenete 40 minuti è lo stesso lo copro ok passato il tempo lo vado a riprendere qui accelerato un pochino ci faccio un giro un giro di pieghe normali soltanto un giro così vedete molto morbido ecco qua e adesso lo copro di nuovo lo faccio riposare 30 minuti dopodiché procedo per la formatura bene quindi lo riprendo e lo allargo così io ci farò un filone qui ci vengono ce ne vengono anche due volendo bastava dividerlo e due filoni due filoncini magari ci venivano bene io ne farò uno più grande più lungo quindi piego in questo modo così stringo bene dove vado a piegare bene ma insomma delicatamente non è che dobbiamo schiacciare solo un pochino per non far venire quei buchi anomali diciamo così continuo così lo piego poi se avete un altro metodo fatelo naturalmente ed ecco qua adesso lo chiudo ok ci siamo cerco lo pirlo un pochino per allungarlo perché ne voglio fare non voglio fare un filone cicciotto diciamo così e quindi lo farò un pochino più lungo non uso il cestino perché è troppo corto lo voglio fare più lungo del cestino che ho a casa dico sempre che devo prenderne uno più grande però poi mi dimentico lo metto dentro questa placca del forno la seconda placca del forno è un pochino più alta ho messo un telo con un po di semola ho insemolato bene scusate lo appoggio vicino al bordo così il bordo gli fa da spalliera diciamo così metto ancora semola e poi poi chiudo il telo ce lo avvolgo in modo che cerco di in modo che cresca in altezza e non si allarghi più di tanto quindi lo stringo un pochino così ci metto anche un altro telo vicino per sorreggerlo e lo lascio lo lascio lievitare ancora qualche ora allora il tempo della lievitazione come sapete può variare in base alle temperature che ci sono se estate o inverno comunque il mio è stato presso a poco tre orette diciamo tre orette forse scarse allora una volta pronto lo vediamo quando è pronto quando si è gonfiato un pochino facciamo anche la prova dito io qui procedo così perché non ho usato il cestino quindi l'ho adagiato così oppure fatelo fatelo rotolare direttamente con il telo allora il forno è già a temperatura 250 gradi ci faccio velocemente un taglio qualche qualche disegnino qualche spighetta così tanto per il forno è con vapore con due spruzzi di vapore altrimenti fate con lo spruzzino mettete un pentolino con un po' d'acqua per i primi 20 minuti vado ad infornare ecco qua allora si sta gonfiando vedete dopo 15 minuti e la temperatura adesso ve la scrivo 250 almeno per 20 minuti con i primi due spruzzi di vapore poi gradualmente abbasso a 230 220 e 200 gradi e poi a spiffero se lo lascio a 10 minuti a spiffero metto a 180 ed eccolo pronto all'incirca sono 50 minuti di cottura lo metto lo adagio anche un pochino in piedi per far fuoriuscire il vapore e per tagliarlo naturalmente aspetto aspetto che si prendi un pochino allora diciamo che questo pane io l'ho cotto la sera quindi poi l'ho tagliato la mattina perché poi mi sono addormentata e l'ho tagliato la mattina quindi è stata tutta la notte l'ho coperto poi una volta freddo con un canevaccio però vedete è ancora croccante guardate com'è bello è bellissimo dentro però ecco se lo tagliamo dopo un'ora che è stato cotto anche due ore sarebbe meglio beh io direi che questo pane è venuto molto bene il profumo è buonissimo vedete si vedono i semini anche se non messi pochi si vedono è molto molto leggero devo dire e adesso non mi resta che assaggiarlo con un salamino questa è la corellina della bottega del gusto di Lanuvio ciao a tutti amici vi ringrazio della visione e ci vediamo prestissimo ciao ciao